Oh ragazzi, venite, che meraviglia! Forza, forza, venite dentro, non fa piacere, venite, non ci posso... No, 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 no! Non siamo qui a fettinare le bambole, per favore, mettetevi tutti in fila, forza! Gambe in alto, detto, andiamo! Avanti, gambe in alto, gambe in alto, detto! Uno, due, in alto, in alto, in alto, senza plettere! Uno, due, uno, due, uno, due, in alto, tutti insieme! Ma la gamba, la gamba, la gamba! Guardi! Sostengo, 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 ho detto sostengo, forza a sostenere, dai, forza, coraggio! Senza plettere, il sedere in dentro, uno, due, tre, senza plettere, il sedere in dentro, uno, due, tre, forza, forza ragazzi! Oh, senti a me!